eccoci buonasera benvenuti a questo nuovo webinar di palos stem academy un webinar bonus che non era diciamo non era stato previsto nella programmazione originaria ma diciamo come era stato proposto per festeggiare i duemila i duemila iscritti e niente insomma è stato messo in programmazione in questo in questo in questo periodo come vedete diciamo la luce adesso un pochino problematica perché le giornate si allungano abbiamo la finestra di fronte col sole e va bene meglio meglio stiamo meglio comunque così che rispetto alla situazione più buia di qualche settimana fa dicono dalla regia insomma ok comunque tanto lo sapete e adesso condividerò lo schermo e vedremo un po di un pochino di applicazioni pratiche di mechi mechi e diciamo il webinar è un po diviso in due parti una prima parte dove guarderemo mechi mechi dentro scratch in particolare vi mostrerò cosa permettono di fare i due blocchetti inclusi nell'estensione nell'estensione scratch nell'estensione mechi mechi per scratch e poi la seconda parte diciamo un pochino più dedicata alla secondaria vedremo come mechi mechi essendo di fatto un arduino di un'altra forma può essere sia utilizzato all'interno di arduino ide che è il programma con cui si programma di solito l'ambiente di sviluppo in cui si programma di solito arduino e vedremo anche un'applicazione musicale di mechi mechi o meglio diciamo come poter sfruttare mechi mechi per le applicazioni musicali usando il midi che è il protocollo tradizionale di comunicazione fra gli strumenti musicali elettronici e quindi non passando dal dall'uso della simulazione dall'emulazione dei tasti della tastiera che è un meccanismo diciamo un pochino grossolano che funziona dentro scratch ma non funziona diciamo al di fuori del mondo scratch non funziona nel mondo diciamo degli strumenti musicali elettronici ok dove invece il protocollo e la fa da padrone è il midi ma cominciamo subito e condivido subito lo schermo condividi eccoci qua partiamo partiamo da la l'estensione mechi mechi per scratch 3 ok questo link lo trovate tutti i link che vi mostro sono inclusi nella nella descrizione del video quindi nella sezione sottostante alla finestra del video qui siamo in questa è una pagina del sito mechi mechi che comunque vi consiglio di visitare perché è pieno di risorse per gli educatori e per gli insegnanti e c'è una breve descrizione dell'estensione che è stata fatta per scratch 3 ci sono dei video eccetera adesso però per rendervi la cosa più pratica condivido subito la finestra di scratch 3 allora arrivo finestra dell'applicazione devo aprire scratch che è sempre qui nel browser eccolo qua ok allora intanto chiaramente mechi mechi emulando i tasti della tastiera può ovviamente essere utilizzato usando i blocchetti situazioni scusate eccolo qua quindi semplicemente mettendo spazio mettendo un altro tasto della tastiera freccia su freccia giù eccetera possiamo far muovere il nostro personaggio il nostro sprite dentro scratch utilizzando il il mechi mechi mettendo i tasti della tastiera perché mechi mechi di base appena uno lo tira fuori dalla scatola emula i tasti della tastiera torno un attimo in webcam per farvi vedere che che io ho qui con me un mechi mechi che userò durante la presentazione quindi come dire tutte le cose che farò dentro scratch sono effettivamente simulate in tempo reale sul mechi mechi che ho qui con me ok torno a condividere lo schermo quindi se faccio quando si preme il tasto spazio per esempio faccio muovere o ruotare il nostro personaggio il gattino io se premo il come dire il il sensore spazio su mechi mechi il nostro gattino girerà stessa cosa se premo spazio sentite il suono che premo spazio sul mio sulla tastiera del mio pc ok una cosa molto interessante che è stata introdotta da questa nuova edizione di scratch è l'estensione mechi mechi per accedere alle estensioni devo andare qua in basso a sinistra dove c'è aggiungi un'estensione mechi mechi eccola qua l'estensione e voilà e vengono fuori questi due blocchetti il primo blocchetto funziona più o meno allo stesso modo di quello che vi ho fatto vedere prima spazio freccia giù freccia su freccia destra freccia sinistra e ci sono anche le lettere voi direte dove sono le lettere sul mechi mechi queste altre lettere ve lo mostro torno in webcam le lettere sul mechi mechi sono sul retro sulle linee laterali se andate a vedere in questo caso qui su questo lato sul lato sinistro della scheda c'è la w la la s la d la f e la g come faccio ad accedere a a questi a questi tasti semplicemente posso usare dei cavetti dei jumpers che sono quelli che si usano di solito con 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 arduino quindi semplicemente se faccio la stessa cosa che di solito faccio con i con i cavetti a morsetto quei cavetti a coccodrillino lo faccio con questi jumpers cioè chiudo il circuito usando la mia pelle semplicemente funzionano uguale e posso accedere anche ai tasti delle lettere c'è la w e da quest'altra parte abbiamo anche altri click del mouse e il freccia su freccia destra freccia sinistra anche su questa anche su quest'altro lato ok quindi adesso vi farò vedere dentro scratch che sceglierò la lettera a per attivare e userò questi due cavetti quello nero che fa le funzioni del della terra del ground e questo che attiverà la lettera a quando chiuderò il circuito con con il tocco della mia della mia mano ok condivido lo schermo eccoci qui quindi come detto scelgo la lettera a tocco i cavetti che vi ho mostrato prima in webcam e vediamo vedete che il nostro gattino ruota ok quindi sapete bene che fra le quattro frecce e lo spazio sono posizionate sul pannello principale di mechi mechi quello dove vengo viene proprio come dire dove si usano i cavetti a coccodrillino quindi col morsetto e le lettere invece alle lettere vi si accede dal retro utilizzando i cavetti jumpers che sono quelli classici che si usano anche con che si trovano nei kit arduino che di solito si usano con arduino ok molto più interessante è il secondo blocchetto che è questo che è proprio un po quello che serve per ottenere quel tipo di comportamento che viene descritto in questo tutorial che vi mostravo prima ed è descritto con questa frase qui gesture control scratch cioè possiamo utilizzare mechi mechi per rilevare dei gesti per esempio se io adesso guardiamo le opzioni a sinistra su a destra a destra vedete che ci sono tutta una serie di combinazioni di tasti da seguire in sequenza quindi in qualche modo dei tasti che descrivono un gesto un movimento per esempio se metto a destra su a sinistra ve lo faccio vedere anche in webcam per attivare il il gattino insomma per fare muovere il gattino devo fare a destra su a sinistra devo seguire questo schema di movimento a destra su a sinistra ok ve lo mostro dentro scratch condivisione schermo arrivo eccoci attiviamo e vediamo a destra su a sinistra se funziona ora mi si è staccato eccolo qua sta ruotando perché sto facendo il gesto ve lo faccio rivedere sta ruotando perché sto facendo questo gesto questo è interessante perché rende un po' più articolato il modo in cui possiamo interagire con il nostro personaggio all'interno di scratch abbiamo vari schemi di movimento sinistra su destra destra su sinistra sinistra a destra da destra a sinistra su giù giù su interessante è il fatto che lui tiene per un tot per una certa finestra temporale possiamo anche avere una sequenza come questa su su giù giù a sinistra a destra a sinistra a destra quindi una vera sequenza di movimenti ciò significa che l'unico modo che ho di far muovere il gattino con questo parametro qui è proprio quello di prendere il mio mechi mechi e fare come come se stessi digitando un numero di telefono freccia su due volte giù due volte sinistra destra sinistra a destra e si è mosso ok io sto proprio ora non lo vedete sto proprio digitando sul mio mechi mechi come se fosse il tastierino di un telefono su su giù giù sinistra destra sinistra destra e si muove ok altro trucco molto interessante che ci apre possibilità e su questo come dire vi invito a liberare la vostra immaginazione soprattutto se siete esperti di scratch anche più esperti di me dato che io di solito non lo uso tantissimo scratch soprattutto diciamo lo uso per spiegare alcuni concetti base ovviamente della programmazione ma raramente insomma lavoro molto sulla grafica e sulla creazione di applicazioni quindi voi chi di voi magari è più esperto e più creativo da questo punto di vista questa cosa che vi dirò sicuramente è molto vi incuriosirà ed è molto interessante e vi invito quindi a utilizzarla possiamo creare delle nostre sequenze personalizzate ciò significa che possiamo anche potrete creare delle applicazioni dei giochi dove magari lo studente deve proprio come accadeva in alcuni vecchi videogiochi di quando ero piccolo che deve trovare qual è la sequenza dei comandi per poter far accadere qualcosa come facciamo a creare delle sequenze personalizzate andiamo nelle variabili creiamo una variabile che per esempio possiamo chiamare sequenza ok dopodiché prendiamo il blocco porta la mia variabile a utilizziamo la situazione l'evento bandierina verde quando la bandierina verde viene premuta portiamo la nostra variabile a e qui all'interno del parametro metteremo la sequenza che desideriamo la sequenza segreta che vogliamo in qualche modo implementare dobbiamo scrivere i comandi per il momento funziona solo con l'inglese quindi se vogliamo per esempio fare una sequenza che sia su su giù giù due volte freccia su e due volte freccia giù dobbiamo scrivere up up down down e devo variare a questo punto il campo il parametro della sequenza che farà ruotare il mio gattino e come si fa di solito con le variabili prendo la mia variabile scusate la variabile era sequenza la variabile sequenza e la metto qua ok in questo modo il gattino ruoterà di 15 gradi al momento in cui come dire eseguirò sul makey makey la mia sequenza la sequenza che ho scelto che ho programmato che è up up su su giù giù premo la freccia e la banderina verde per far sì che questa sequenza in qualche modo venga registrata dentro la variabile che ho chiamato appunto sequenza e adesso vediamo su su giù giù sto facendo su su giù giù sul mio makey makey e infatti si è mosso su su giù giù su su giù giù e si è mosso ok ve lo mostro anche in webcam eccomi su su giù giù ok su su giù giù e il gattino si muove se uno volesse cambiare la sequenza semplicemente agisce su questa riga qui dove la nostra variabile sequenza viene tecnicamente si dice viene definita e possiamo in questo caso diciamo facciamo up up down down mettiamo destra poi right quindi per far sì che il gattino si muova rifaccio la banderina verde per far sì che il gattino si muova farò due volte freccia su down down e poi destra e infatti si è mosso ok questo è una cosa che oggettivamente prima dell'estensione prima di prima che scratch diciamo ci mettesse a disposizione l'estensione makey makey volendo era possibile farlo anche prima ma sicuramente era un po' più articolato insomma uno avrebbe dovuto usare le liste tutta una serie di cose e qui diciamo se lo ritrova già belle pronto già pronto in una sola riga di codice ok quindi questo è una cosa molto utile da usare soprattutto per chi insomma è appassionato di di scratch e vuole utilizzare makey makey per creare videogiochi piccole animazioni con un po' di domande all'interno e questo può essere interessante tornando al tutorial che vi ho fatto vedere prima infatti questo tipo che vi invito poi a il link ce l'avete qui sotto al video vi invito a navigare dentro il sito i makey makey perché ci sono veramente tantissime risorse soprattutto per per usare makey makey con scratch e questa cosa la chiama appunto questa idea di poter creare delle applicazioni con le sequenze con i gesti o li chiama proprio secret codes in scratch cioè insomma l'idea di creare dei giochi dove magari lo studente deve proprio trovare una combinazione di tasti una combinazione di comandi per sbloccare qualcosa oppure per andare avanti ok adesso invece passiamo a un argomento un po' più complesso speriamo che funzioni tutto perché devo coordinare varie applicazioni che vi devo mostrare ed è questo makey makey avanzato ok torno un attimo in webcam makey makey avanzato che cosa significa significa che questa scheda l'ho già detto altre volte la scheda makey makey è in realtà un arduino leonardo di un'altra forma e con a cui è stato in qualche modo cambiato un circuito in modo da rendere sensibile al tocco queste parti qui ma sostanzialmente è un arduino leonardo come sapete le schede arduino sono riprogrammabili ok quindi questo significa che noi possiamo prendere il nostro makey makey e fargli fare qualcos'altro rispetto al comportamento di base che ha di base cioè quello impostato dalla fabbrica lo possiamo riprogrammare e fargli fare qualcos'altro come se fosse una scheda arduino ovviamente sfruttando anche la sua caratteristica peculiare che è quella di trasformare qualsiasi oggetto conducibile di fatto in un sensore di contatto cioè questa cosa la possiamo tenere sfruttare questa sua caratteristica hardware ma usarla anche per cose un pochino più sofisticate rispetto alla semplice emulazione di tasti della tastiera o dei tasti del mouse perché sapete bene che non tutte le applicazioni non tutte le cose rispondono poi a quei comandi soprattutto diciamo le applicazioni che ci sono all'interno di un computer ok quindi andiamo a vedere intanto come modificare come usare il makey makey come se fosse una scheda arduino quindi diciamo qui entriamo già in una serie di possibilità probabilmente un po' più dedicate alla scuola alla secondaria sia di primo che di secondo grado dove è più probabile che diciamo venga proposto arduino condivido lo schermo eccoci qua il link a questo tutorial purtroppo sapete la maggior parte dei tutorial sono tutti in inglese ok quindi non c'è non c'è bisogno che ora vi mettiate a fare screenshot o scrivere al volo tanto il link è nella sezione sottostante al video in questo tutorial di Sparkfun Sparkfun è proprio il costruttore non la ditta marchio ma proprio il costruttore dell'hardware di Makey Makey c'è tutto tutto il tutorial di come utilizzare Makey Makey dentro arduinoide io ora ve lo sintetizzo ve lo faccio vedere in pratica condividendo la schermata dell'applicazione arduino che ho già aperto ve la condivido eccoci qua allora questo per chi non lo sapesse questo è arduinoide è il programma l'ambiente di sviluppo dentro cui programmiamo le nostre schede arduino se guardate qui vedete che io sono connesso alla scheda Sparkfun Makey Makey che quindi viene riconosciuta dal 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 software come se fosse una arduino di solito si usa arduino genuino uno quella che uso più spesso ma insomma ne usiamo o l'arduino leonardo sapete che arduino è una famiglia di schede ok quindi io posso usare questo programma anche per programmare il mio makey makey come ho fatto a rendere riconoscibile il makey makey devo andare in strumenti poi devo andare in scheda e andare qua su in gestore schede ora non lo ve lo mostro di nuovo strumenti gestore schede non so se se riuscite a vedere le operazioni che fa questo dipende dal sto vedendo un attimo cerco di vedere se riesco a mostrarvelo perché dipende dal software che uso per lo streaming del webinar che non sempre riesce a fare vedere le sottofinestre che si aprono un attimo e che ci ritrovo strumenti ecco ora dovreste vederlo strumenti scheda gestore schede qua in alto ora si aprirà una finestra che sono sicuro che non vedrete io vedo ma ripeto dipende dipende dal software da hangout on air per fare per fare i webinar quando si aprirà quella finestra vi basterà scrivere il nome makey makey comunque c'è tutto scritto nel tutorial e verrà fuori e ci sarà un componente aggiuntivo da installare simile all'estensione di scratch voi semplicemente farete installa dopo che l'avrete installato avrete la possibilità di scegliere makey makey tra le schede programmabili col vostro software arduino ok comunque è tutto scritto nel nel tutorial una volta che abbiamo come dire che ci siamo collegati alla nostra scheda la possiamo programmare pari pari a un arduino per cosa la voglio programmare oggi per una cosa un po' diciamo articolata rientro un attimo in webcam per farvi vedere anche una cosa dal vivo eccoci tutti voi probabilmente se state vedendo questo webinar avete visto il video di presentazione di makey makey dove una delle diciamo delle applicazioni più spettacolari più famose più iconiche anche è quella del banana piano e poi c'è anche quella del pianoforte suonato con le scale e insomma ci sono due o tre applicazioni nel video applicazioni a sfondo sonoro a sfondo musicale come vengono come viene ottenuto quell'effetto semplicemente ci sono delle applicazioni di solito raggiungibili anche attraverso il browser che dove il pianoforte virtuale risponde ai tasti della tastiera alla lettera A quindi oppure al tasto spazio al tasto invio queste cose qui ai tasti della tastiera che vengono emulati dal makey makey ok però questo è diciamo un meccanismo piuttosto insolito di solito nel mondo degli strumenti musicali elettronici ve ne mostro uno questo è uno strumento musicale elettronico diciamo tradizionale nel mondo quindi anche delle tastiere delle batterie elettroniche anche degli strumenti che probabilmente sono presenti nella vostra scuola vi invito ad andare a verificare quando rientrerete dopo le vacanze anche se avete dei pianoforti digitali o delle tastiere elettroniche tutto ciò che è elettronico dovreste trovare sul retro una porta di questo tipo così si vede meglio questo tipo qui questo tipo di porta è chiamato porta midi se avete un modello nuovo può darsi anche che non ci sia così ma ci sia scritto sul retro della tastiera o del pianoforte digitale ci sia comunque scritto midi in e midi out e magari ci sia una porta usb diciamo che il midi può passare anche dall'usb ma tradizionalmente soprattutto negli strumenti o un po' più vecchi o più professionali c'è sempre la porta tradizionale che è questa ok il midi è un protocollo di trasmissione cioè significa semplicemente un codice che serve per far comunicare fra di loro gli strumenti musicali elettronici in questo codice viene semplicemente scritto qual è la nota che uno strumento musicale deve suonare in un determinato momento con quale volume e con quale durata ok che ci crediate o no di tutte le cose di cui stiamo parlando e di cui abbiamo parlato anche negli scorsi webinar probabilmente il midi è la tecnologia più antica è un protocollo che è ancora la versione numero uno e risale all'81 all'83 non me lo ricordo però vi ho condiviso per chi è curioso vi ho condiviso il link alla pagina wikipedia eccolo qua midi musical instruments digital interface ok tra l'altro il midi è presente anche in scratch in quanto quando andate a usare i blocchetti i blocchetti suono ed esprimete e date il nome della nota eccetera quello che metti in comunicazione scratch diciamo con il generatore sonoro è midi quindi per dirvi che il midi è una cosa che è presente ovunque è presente nel vostro computer è presente nel vostro telefono cellulare è presente in scratch è presente dappertutto anche perché è un protocollo molto antico a questo punto la domanda è bene come posso fare comunicare il mechi mechi quindi la sua caratteristica fondamentale che è quella di trasformare qualsiasi oggetto in un sensore di contatto come posso usare questa sua caratteristica per suonare degli strumenti musicali o dei programmi musicali più specializzati per gli usi musicali quindi con suoni migliori e tutta una serie di altre funzionalità migliori rispetto al semplice pianoforte pentatonico cioè con 5 tasti e basta che avete visto nel video di mechi mechi lo possiamo anche cercare adesso tipo banana piano applicazione vediamo dove è eccolo qua eccolo qui ok che tra l'altro come vedete è falsato perché ci sono in realtà possiamo solo suonare 6 tasti mi do re mi fa so la ci manca il si non possiamo suonare i tasti neri e poi tra l'altro qui c'è c'è il click va bene questo lo possiamo utilizzare insomma come dire è chiaramente molto molto limitato ok mentre invece la domanda può essere come faccio a usare il mechi mechi per applicazioni musicali un pochino più avanzate un pochino più serie anche per comandare degli strumenti o dei programmi più specializzati sulla musica possono anche molti di voi chi si intende un po' di musica e computer magari chi usa apple conoscerà garage band oppure insomma ce ne sono ce ne sono vari di programmi quello che dobbiamo imparare a fare è quello che trovate in questo tutorial che adesso vi sintetizzerò è come trasformare mechi mechi tecnicamente in un midi controller vuol dire che userò i sensori di fatto del mechi mechi per inviare note midi a uno strumento a un programma dedicato alla musica fortunatamente è molto più facile per chi magari di voi ha un po' di mestichezza con arduino non è una cosa particolarmente difficile perché basta scaricare il codice che è condiviso in questo tutorial eccolo qua caricarlo nel nostro programma arduino e niente e la scheda mechi mechi viene subito riprogrammata per emettere queste note qui con questi sensori quindi il do il do diesis il re il re diesis il mi e il fa e per chi non lo sapesse la notazione c d e f è quella internazionale il c corrisponde al do il d al re e al mi e f al fa ovviamente queste note possono essere cambiate nel codice tutto quello che tutto quello che vogliamo quindi vi mostro il codice così come viene caricato nel programma io l'ho scaricato precedentemente da questo link l'ho l'ho decompresso e l'ho aperto dentro arduino ide eccoci qua makey makey midi controller explained ora non lo vedete perché ho aperto un'altra finestra ve lo condivido di nuovo eccolo qua ok questo è il codice adesso non vi interessa sapere come funziona il codice non è una lezione sul codice testuale di di arduino diciamo che funziona ci va bene così ok dobbiamo semplicemente caricarlo sulla scheda come si caricano le cose i i codici su arduino per chi non lo sapesse semplicemente verifichiamo di aver scelto la scheda giusta in questo caso è giusta sparkfun makey makey selezioniamo la porta seriale a cui è collegato eccolo è giusta già spuntata già collegato e procediamo al possiamo fare una verifica del codice per vedere che non ci dia errori diciamo una verifica con la spunta in alto a sinistra attendiamo qualche secondo ok compilazione completata non ci vengono segnalati errori il codice funziona e con quest'altra freccia carica lo carichiamo sulla nostra scheda makey makey ok ok allora a questo punto apro un attimo qui la porta seriale ora voi non lo vedrete per fare una verifica io ok allora a questo punto ancora non lo vedrete non lo vedete in azione ve lo mostro tra qualche secondo il nostro makey makey non funziona più come prima cioè ho cambiato il suo codice interno con questa semplice operazione adesso quando andrò a premere le frecce o insomma i suoi sensori lui non emetterà più i tradizionali comandi di tastiera la freccia alto freccia basso freccia destra o freccia sinistra ma farà passare dal cavo usb farà passare dei dati midi corrispondenti come abbiamo visto prima al do do diesis al re al mi eccetera al mi eccetera eccetera voi direte cosa perché far passare i dati midi semplice perché il midi essendo il protocollo standard è universale è compatibile con tutti i programmi musicali o tutti gli strumenti hardware musicali elettronici cioè è proprio lo standard di comunicazione nel mondo musicale quindi per farvelo vedere adesso faccio vedere come lo collego a un programma musicale ora io sto lavorando su windows quindi non ho garage band userò un altro programma che si chiama linux multimedia studio anche se si chiama linux c'è anche la versione per windows solo è nato su linux è gratuito e trovate il link comunque nella sezione sottostante al video e adesso vi faccio vedere tutti i collegamenti che dobbiamo fare per poter suonare quel programma col nostro makey makey la prima cosa che dobbiamo fare tutte queste cose che vi dico sono comunque riportate in questo tutorial che è un po' che in realtà può sembrare complesso se non conoscete chiaramente come funziona il midi però può essere una buona occasione per per conoscere il midi perché comunque questo tutorial funziona tutto l'ho provato appunto per fare questo questo webinar allora dobbiamo intanto aprire con questo programma qui loop midi dobbiamo aprire all'interno del nostro sistema operativo windows una quella che si chiama una porta midi eccolo qua una porta midi virtuale molto semplice apriamo il programma e facciamo più e apriamo una porta gli diamo un nome in questo caso l'ho chiamata midi coming from arduino ok e questo lo lasciamo aperto l'altra cosa che dobbiamo fare è aprire un'altra applicazione che è quella che prende i dati midi dal makey makey e li porta su questa porta virtuale interna al sistema operativo ovvero a windows quest'altra applicazione la devo aprire un attimo la cerco e la apro eccola qui ve la mostro ed è questa airless midi anche questa è linkata o meglio è presente nel tutorial quindi non vi dovete preoccupare come vedete questa se io tocco il mio makey makey vedete che si illumina semplicemente da questa porta che è la porta seriale 43 a cui è collegato il nostro makey makey questo programma che cosa fa devia questi dati sulla porta virtuale midi che ho creato midi coming fra un arduino ok se tocco il makey makey si illumina perché sta ricevendo dei dati a questo punto apriamo il nostro programma musicale in questo nel mio caso linux multimedia studio che devo aprire eccolo qua vediamo se riesco a condividerlo nello schermo un attimo devo chiudere qualcosa altrimenti non mi permette di mostrarvelo chiudiamo questo e riapriamo linux multimedia studio condivido eccolo qua eccolo questo è linux multimedia studio ora è un programma gratuito per chi di voi è interessato alle cose musicali lo può lo può scaricare gratuitamente è molto simile insomma tutti questi programmi sono tutti molto simili garage band cakewalk e altre applicazioni anche per dispositivi mobili diciamo che scelgo questa traccia dove c'è uno strumento musicale che si chiama così che è una tastiera elettronica scelgo l'ingresso midi midi coming from arduino io adesso se premo vedete che sta ricevendo dei dati vedete non sentite il suono perché c'è il mio microfono collegato lo stacco un attimo ok ora dovreste aver sentito l'audio mi ricollego col microfono eccomi sono tornato quindi in questo modo col midi noi possiamo collegare il nostro makey makey a qualsiasi applicazione musicale che sia a pagamento che sia gratuita che sia per principianti che sia professionale perché il midi è universale mentre quello che di solito si fa con il con il banana piano come si ve come vi ho mostrato prima ve lo faccio rivedere eccolo qua ciò che si fa chiudo se no ho troppe finestre aperte e non me le condivide mentre questo è limitato a questo suono a queste possibilità qui e a questi suoni un programma ovviamente dedicato alla musica ha suoni di qualità superiore una varietà molto più grande eccetera 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 e ripeto nel mondo musicale il midi è lo standard bene questo era per mostrarvi la possibilità di riprogrammare il nostro makey makey per un'applicazione un po' più ricercata e soprattutto musicale visto che tra le applicazioni più più di successo appunto come anche nel video ci sono quelle musicali e sonore ora la domanda può essere bene grazie bello tutto molto bello come faccio a far tornare il mio makey makey allo stadio originale come è uscito dalla dalla fabbrica semplice era comunque scritto qui nel tutorial questo tutorial avanzato per makey makey basta scaricare il makey makey firmware ovvero il suo codice originale aprirlo dentro l'applicazione arduino lo faccio vedere dividi aprirle apri scherzo makey makey eccolo qua questo è il suo codice originale non ci interessa adesso analizzarlo spiegarlo non ci interessa chiudiamo chiudo le altre applicazioni che stanno comunicando col makey makey altrimenti non riesco a caricarci niente ok carico semplicemente questo codice sulla scheda verifico che la scheda sia collegata sta bene carico attendo qualche secondo vediamo caricamento completato eccoci qui a questo punto il nostro makey dovrebbe essere ritornato come era uscito dalla fabbrica per verificarlo andiamo in in scratch oppure nel banana piano vediamo vediamo ok vedete che si sta illuminando non sentite il suono perché c'è il mio microfono lo tolgo un attimo ok sto suonando col mio makey makey ed è ritornato pari pari alle condizioni di fabbrica io torno in webcam eccoci qui quindi diciamo che vi ho mostrato in questi 50 minuti come in qualche modo utilizzare makey makey nelle sue funzionalità di base grazie all'estensione la nuova estensione per scratch 3 vi ho mostrato come alterare pesantemente il suo comportamento riprogrammandolo dentro l'applicazione arduino nello specifico un esempio riguardante un'applicazione applicazioni per il mondo musicale quindi trasformare il nostro makey makey tecnicamente in un midi controller ci sarebbe anche la possibilità di controllare con questo anche uno strumento hardware esterno però diciamo è un po' più complicato insomma chi è interessato mi scriva in privato alla mia mail oppure a info palos.it e poi dopo aver fatto tutta questa modifica tutto questo hacking del nostro makey makey lo abbiamo riportato alle sue condizioni di fabbrica troverete il test nell'area riservata del sito per chiedere l'attestato di partecipazione al presente webinar io entro in chat per rispondere alle vostre domande per qualsiasi altra cosa scrivetemi scriveteci a info www.paleos.it vi saluto ci vediamo tra qualche secondo in chat di attra di attra di Grazie a tutti